Ruota il braccio, si, ok, avanza, ok, ruota il braccio, benissimo, ok, avanza, allora cambiate mano, te tira, ok, si, benissimo, vai, anche te, ok, ora cambiate mano, perché sennò dopo un po' vieni, gira la testa per forza, bene Angela San e Massimo San, vai, è tipo qua qua, vedete anche questo, si, dopo tre volte cambiate mano, dopo tre volte cambiare mano, cambiare mano dopo tre volte, andate a sinistra o a destra, dove siete? calcio, ok, calcio, ok, calcio, si, benissimo, ok, calcio, ok, calcio, si, benissimo, ok, calcio, Grazie. E' piaciuto. Eh si. Aspetta, vai, aspetta. Eccola qui. Il momento. La padrona di casa. Ciao, ciao. Il padrone del negozio. Del negozio. La domestica. La domestica. La domestica. Non importa. Non si può raccontare pubblicamente. Non. Non, non, non. Non, non, non. E' Pride. Se volai. Passo. Maia,ucha. Il droppedi. Ha-ERF. La checuita da tecnología. In bus instead. Si. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Uno... Grazie a tutti.